Non è filato senza intoppi invece il momento vaccinale per le persone dai 70 ai 79 anni, quindi qui non parliamo solo del vaccino a disposizione AstraZeneca che è stato appunto somministrato a Pescara e nelle sedi aquilane, ma parliamo della normale fascia in vaccinazione in questo periodo. Una fila corposa al Palauda per un problema, un disguido probabilmente con il passaggio dalla piattaforma della regione a quella delle poste, fatto sta che tante persone in fila si sono lamentate. C'è andato per noi Luca Pompei che abbiamo in collegamento, la nostra redazione social ci racconta appunto cosa è stato, cosa è successo al Palauda. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici e te spettatori, ci hanno segnalato questa mattina code, disagi, assembramenti e quant'altro, siamo andati a vedere come era la situazione dalla regia, possono partire anche le immagini che abbiamo girato questa mattina. Come vedete code incredibili davanti alla Palauda, l'ex palacus dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti per le categorie tra i 70 e i 79 anni. Persone che erano state convocate per le nove, queste immagini sono state girate intorno a mezzogiorno e sono ancora lì. Lo hai accennato giustamente anche tu Marina, il problema è legato particolarmente alle prenotazioni sulla piattaforma delle poste, perché molti ci hanno detto che le poste hanno accettato prenotazioni, tra l'altro tutti alla stessa ora. Abbiamo casualmente beccato almeno 5-6 persone convocate per le nove, questo a testimoniare di come questo tipo di prenotazione evidentemente in questo modo non può funzionare. Va detto che sia il personale medico dell'ASL ma anche gli uomini della protezione civile si sono messi, come vedete dalle immagini, completamente a disposizione delle persone sotto il sole ad attendere per diverse ore, per cui hanno cercato di accelerare le pratiche, mentre gli uomini della protezione civile hanno provveduto subito a reperire delle sedie per far sedere le persone anziane. Le sedie che ieri credo non ci fossero, da come ci è stato detto, quindi un passo avanti almeno quello di aver fornito le sedie a queste persone. Sì, sì, infatti, perché quando siamo arrivati noi la situazione era nettamente migliorata, ma stamattina non c'erano né transenne né sedie, assembramenti incontrollati, quindi immaginate... Ecco, queste sono le immagini proprio che scorrono riferite a stamattina invece che ci ha mandato un telespettatore. Ci ha inviato un telespettatore che poi abbiamo tra l'altro anche intervistato nel corso della diretta social che vi abbiamo fornito. Insomma, va rivista un po' la questione della piattaforma delle poste italiane da questo punto di vista, lanciamo l'appello anche alla Regione Abruzzo perché riveda un attimo un po' questo meccanismo, visto che si creano situazioni di questo tipo.